Sull'orlo di una crisi, anche di nervi. Quasi tutti i comuni siciliani saranno con ogni probabilità costretti a sforare il patto di stabilità per garantire servizi e stipendi ai dipendenti. La variazione di bilancio approvata all'Ars la scorsa settimana non consentono a molti piccoli comuni di chiudere i bilanci a causa dei tagli operati, senza considerare il problema delle proroghe e della stabilizzazione dei precari una bomba d'oroleggeria attivata. Da qui l'ennesimo grido d'allarme per una situazione degli enti locali che davvero è a un passo dal diventare insostenibile. Abbiamo assistito a un ritardo da parte dell'Assemblea regionale nella approvazione della variazione di bilancio, ma di fatto ancora oggi aspettiamo la conferenza Regione Autonomie Locali che provvederà al riparto di queste risorse. Credo che le risorse complessivamente dovrebbero bastare per recuperare tutta la quota della parte corrente relativa ai comuni. È chiaro che arriverà in ritardo perché questa conferenza ancora non si è fatta e perché la Regione ha ritardato. Fino adesso cosa abbiamo avuto noi come comuni? Solamente il 60% di due rate, considerate che fino adesso ne sono state maturate ben tre rate, quindi delle prime due rate semplicemente il 60%. Quindi complessivamente delle somme che fino adesso i comuni avrebbero dovuto avere alla Regione siamo circa il 35%. Nel frattempo noi abbiamo assicurato comunque i servizi e per quanto riguarda il Comune di Fricare ha assicurato anche lo stipendio. Penso che nessun comune se non prima della prima decada di dicembre potrà avere l'opportunità di approvare un bilancio che sia un bilancio concreto, perché tanti comuni lo possono anche approvare il bilancio, ma senza avere questa quota sicura da parte della Regione. Noi lo faremo entro la prima decada di dicembre, ma come dice lei non è più un bilancio preventivo ma è un bilancio consuntivo.